Momento di disagi sulla A24. A partire da ottobre per 45 giorni il traffico nel traforo del Gran Sasso sarà alternato. Con questa misura si inaugurerà un periodo prolungato di lavori e disagi, che preoccupa gli industriali terramani, che hanno alzato la voce con una nota, dopo l'incontro di ieri organizzato dal vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli, nella sede associativa di Sant'Atto. Anche il commissario straordinario di governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, ha presenziato l'Assemblea, che si è posta come obiettivo anche quello di conoscere l'organizzazione degli eventi programmati per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e individuare le soluzioni per limitare i disagi per le aziende. Strada dei Parchi, intanto, ha già annunciato le prime chiusure notturne. Dalle ore 22 del 16 e del 17 settembre fino alle ore 6 dei giorni successivi sarà chiuso il tratto con le Dara Sergi, in direzione L'Aquila, mentre nel medesimo orario dei giorni 19 e 20 settembre sarà chiuso il tratto in direzione opposta. Alla luce di questo, il vicepresidente D'Atto gli ha manifestato preoccupazione per le difficoltà dei trasporti e l'aumento dei costi, mentre Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha garantito alle imprese il supporto necessario per gestire le modifiche.